Fai, ma? Sì. Scala. Vada, una terzina. Sponsor della serata Per queste magnifiche serate di casa di Sigonia Caffè di fosso, caffè e una tazza Una tazza, perché la tazza? E la seconda da mazza Una tazza Ma va bene, vorrei rinascere le altre tre amici Grazie del caffè la ma... La fossa La tazza Per la tazza Per noi il caffè c'è la qualità rossa Com'è che ti chiami te? Daniel Maura E Stefano Per la tazza Per la tazza